I tuoi discepoli ti rendono l'onore, è un grande e magnifico Archeas! I tuoi discepoli ti rendono l'onore, è un grande e magnifico Archeas! Ah, sì, sì, io vi sono superiore, miserabile Hippocrome! Chi varrà? Chi varrà? Chi varrà? Fatti vedere! Quindi sei tu, colui che osa portare devastazione nel mio regno! Hai la benché minima idea di chi... Hai... Mi hai lanciato addosso una Pokémon! Gioco insolente! Deve morire! Voglio che soffra di un'agonia senza fine! Silenzio adesso, e lasciatemi fare! Ok piccoletto, oggi mi sento di buon umore, quindi... Perché non te ne torni a casa senza che... La vuoi smettere di cercare di catturarmi? Lo trovo davvero irritante! Stai oltrepassando ogni limite! Non dirimi che sei uno di quegli idioti che tentano di catturare i leggendari con 99 Pokéball Tutti sanno che prima di usare la Pokéball devi indebolire i Pokéball Perchè diavolo glielo stai dicendo, idiota? Non restatevene lì fermi! Fate qualcosa! Perché? Vi odio tutti! Oh, ecco per me! Non preoccupatevi! È impossibile che il nostro dio venga catturato da una semplice Pokéball! Ma cosa cazzo è successo? Ehi tu! Non me la sento di sfidare un poppante di sei anni! Ma ho intenzione di diventare un maestro Pokémon un giorno e... Un maestro deve fare quello che deve fare! Pikachu! Cerco te! Forza distruggi questo bamboccio e senza alcuna pietà mi raccomando! Tutto tutto è per l'Eorzea Dove mi trovo? Dov'è il mio regno? Come ho fatto ad essere catturato da un bambino di sei anni? Pikachu se lancia fiamme! Pikachu? Oh non te la cavi così facilmente Pikachu! Terra subito qui! Molto bene! Visto che mi sono autoproclamato come vostro nuovo dio! Come mio primo ordine vi impongo di iscrivervi al canale! Io mi opposto! Altri che vogliono opporsi? Eccellente! Inoltre vi invito a guardare subito gli altri video! Bravi! Bravi! Bravi!